Buongiorno, buon sabato 12 di novembre. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Mattino 6, l'ultimo per questa settimana. Partiamo subito con la lettura dei quotidiani regionali, le prime pagine. Iniziamo dal centro, edizione di Pescara, titolo di apertura che ritroveremo anche sulle altre edizioni. La mappa dell'Abruzzo che soffre, il centro tra poveri ed emarginati, con interventi di Alfano e Monsignor Forte. E poi, nelle cronache, a Pescara, centro tumore al posto dell'ex ospedale, Montesilvano, caso Pitbull, botte agli inviati di Striscia. E poi, sempre a Montesilvano, ritrovati gli oggetti sacri rubati in chiesa. Andiamo nel taglio basso, fine settimana in relax per Conte, weekend a Pescara. Il tecnico del Chelsea in città, ospite dell'amico D'Aversa. Andiamo ancora avanti a vedere insieme il richiamo dal nazionale e in particolare dagli esteri. Unione Europea contro gli Stati Uniti, Juncker attacca Trump, non conosce l'Europa. E poi, l'editoriale di Bruno Manfellotto e i rischi che corriamo con Donald. Questo è il titolo dell'articolo, una riflessione ovviamente sul neopresidente degli Stati Uniti. Nel taglio alto, la manovra bonus mamma e congeto obbligatorio per i papà, sempre per quanto riguarda le notizie dal nazionale. Poi, tornando alla nostra regione, dopo 40 anni, da Alfonso partono i cantieri della Fondo Valle Sangro e ancora parla a Galbiati con El Foundry, Abruzzo in Cina e Cento Assunzioni. Andiamo adesso all'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Ovviamente, come vi ho detto in precedenza, il titolo di apertura con la fotonotizia è identico per tutte le edizioni. Possiamo anche andare a leggere uno stralcio dell'articolo che poi è nelle pagine interne. Ultimi tra gli ultimi a trasacco. I poveri affamati sempre più infreddoriti, tra le nebbie del fucino sempre più gelato. Si chiama Mohamed e dorme in un casale abbandonato, uno dei tanti, in una piana sterminata dove una volta le acque prosciugate dai torloni accoprivano la terra. Maledetta terra. Si muove a fatica trascinando le coperte sotto le quali ha passato la sua notte disperata, lontano dall'Africa, ricordando come un paradiso il caldo del Marocco, la sua casa. Ha lavorato fino a sera per pochi spiccioli, con decine e decine di altri suoi connazionali e altri disperati arrivati da ogni angolo del sud del mondo, ripulendo la terra dalle sterpaglie. La sua maledizione. Con quella di Igor, il moldavo, giunto in Abruzzo per costruire case e guadagnare una paga decente per i figli. Anche lui a freddo e dalle alture del Terramano è sceso fino ad Alba Adriatica, ha trovato rifugio per la notte in un garage incustodito. E dunque questo è un po' lo spaccato che il centro ci offre rispetto alla questione degli emarginati, degli ultimi e soprattutto degli immigrati, molto spesso costretti a vivere una vita distenti, arrivati in Italia in cerca ovviamente di maggior fortuna. Andiamo nelle cronache adesso. In Chieti colta da infarto dopo la visita, donna salvata. E poi ad Atessa frasi minacciose e fiori finti per il sindaco. Vedete proprio la foto del messaggio intimidatorio sul portone del municipio. E poi Civitella cade in bici, grave e giovane promessa del ciclismo. Andiamo ancora avanti con la lettura del centro. Adesso ci spostiamo sulla edizione Terramana. Andiamo a vedere subito nelle cronache. A Campli esce dal bar travolto e ucciso da un'auto. Ad Ancarano ciclista muore nello schianto con un camion, dunque giornata nera sulle strade del Terramano. E poi a Giulianova i PM un patto traditte per truccare gli appalti. E dunque si torna sulla notizia dell'inchiesta che riguarda il comune di Giulianova. Nel taglio basso i danni del terremoto. Intatte solo 12 scuole su 32. Terramo entra nel cratere ma non avrà tutte le agevolazioni. Il report fornito dal comune sull'esito dei controlli negli istituti di sua proprietà consegna un quadro desolante. Oltre alle 4 inagibili altre 16 necessitano di lavori. Intanto il capoluogo entra nell'area sismica ma le agevolazioni fiscali e contributive saranno solo per i danneggiati. E poi con l'atterrato le voci degli sfollati dimenticati nei camper. Ricorderete anche noi del Tg6 siamo stati a con l'atterrato dove ci sono stati sgomberi nelle palazzine dell'Ater. Andiamo avanti. Sempre sul quotidiano Il Centro. Ultima delle 4 edizioni provinciali, quella riferita alla provincia aquilana. Nelle cronache, la ricostruzione, i sindaci servono finanziamenti per la prevenzione. A Canistro, cancelli chiusi alla Santa Croce, niente lavoro. Continua il braccio di ferro fra regione ed azienda con in mezzo i 75 dipendenti. E poi torno in parte, ladri picchiano padrone di casa e poi fuggono. Nel taglio basso, a Sulmona e il personaggio Ibarra, al vertice della nuova compagnia telefonica nata dalla fusione di Wind e E3, il manager guida il colosso delle telecomunicazioni, l'attuale chief executive of officers a capo della joint venture, supportato da Dina Ravera nel ruolo di merger integration officer e da Stefano Invernizzi, chief financial officer. Il nuovo neocolosso delle telecomunicazioni, dunque targato Valle Pedigna, complimenti dal presidente del Consiglio Comunale, Katia Di Marzio. E poi l'Aquila Vezzano, capienza aumentata in vista del derby di Serie D. Andiamo adesso avanti con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali. Adesso ci spostiamo sul messaggero, questa è la prima dell'inserto. Abruzzo, musulmane in aula, niente religione. Il titolo di apertura a Sulmona diventa un caso, la presenza di una bimba in una classe quinta elementare. I genitori protestano, la direttrice parla di disguido, problema della scuola, dice il vescovo. Andiamo a leggere anche qualche estratto dell'articolo firmato da Iavarone. La parola di Dio devono cercarla tra matite e colori perché la parola Dio non può essere nominata in classe per la presenza di una alunna di fede musulmana. Così i bambini di una quinta delle elementari Lombardo Radice di Sulmona sono costretti a trasformare l'ora di religione in educazione artistica. Fate i disegni e imposta i bambini la supplente di religione perché la presenza di una tra voi di fede non cattolica mi obbliga ad evitare l'insegnamento. Una situazione che secondo la testimonianza degli stessi scolari va ormai avanti da mesi, anche se la dirigente del terzo circolo Angela Caputo spiega che si tratta solo di un disguido che si è verificato un paio di volte. Non ci limitiamo a dare il nulla osta agli insegnanti già abilitati e nel caso di indicare personale supplente, commenta il vescovo di Sulmona, Angelo Spina, quanto accade o accaduto nella scuola Lombardo Radice non è certo nostra responsabilità, piuttosto è un problema organizzativo della scuola stessa che, sono certo, verrà risolto rapidamente. Noi siamo molto sensibili ai problemi della scuola come abbiamo dimostrato ultimamente, mettendo a disposizione le nostre parrocchie per superare le difficoltà del dopo terremoto, così il vescovo Spina. Abbiamo citato il terremoto e dunque lo approfondiamo andando nel Terramano, anche Terramo nel cratere sismico, notizia che abbiamo visto anche sul centro, anche la città di Terramo e nel cratere. Ci saranno sgravi fiscali per le persone che hanno subito danni alle abitazioni o alle attività commerciali. Intanto, su 31 plessi, 4 sono stati chiusi perché inagibili, Savini, San Giuseppe, Via Tevere e Villa Ripa, sono stati classificati in classe A, ossia agibili e senza bisogno di ulteriori interventi, molti altri edifici. Adesso andiamo a centropagina, la cronaca, fucile e pistole a Pescara, la mala si arma, l'arsenale scoperto nel vano ascensore di un palazzo di Rancitelli, di turbolenza in vista, l'operazione portata a termine dai carabinieri della compagnia di Pescara. E poi a centropagina, nella fotonotizia, vedete l'incontro fra Del Rio e D'Alfonso, il governo in Abruzzo, Giovedi Renzi, ieri Del Rio, oggi ci sarà il ministro degli interni Alfano, Turdi, Del Rio, tra Sevel e Ricostruzione, il titolo sulla fotonotizia, infrastrutture per la Val di Sangro, porti, soldi per l'Aquila e Valle Pedinia, e tra gli impegni annunciati ieri in Abruzzo dal ministro Graziano Del Rio e dopo Renzi, oggi arriva anche Alfano. Andiamo di spalla, mance culturali con i fondi della ricerca si tra polemiche, questo lo scontro politico in atto, i Cinque Stelle escono dall'Aula e accusano Forza Italia, resta e vota. Nel taglio basso di sé a Chieti, tubo nel polmone dopo l'intervento, le hanno tolto un tumore ai polmoni, ma le hanno lasciato nel torace un pezzo di tubo di drenaggio, lei è stata male per lungo tempo e ora ha avviato una causa civile con cui chiede di essere risarcita per le sofferenze patite e quando una signora del 39, originaria di Scerni, ma residente in un altro piccolo centro del Vastese, viene sottoposta all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti all'intervento, all'inizio di ottobre prima di essere dimessa, una radiografia rivela la presenza nel petto della paziente di un corpo estraneo endotoracico e più precisamente di un tubo per il drenaggio. Andiamo nel taglio alto, Giulianova litica con il vicino e trova la soffitta murata, la Serie A adesso, ciclo terribile dopo la sosta, il Pescara corre ai ripari, ci saranno due partite importanti con Juventus e Roma entrambe in trasferta. Vista mare a Dio, piscine e chalet a Pescara si alcemento in spiaggia, il mancato recepimento del piano marittimo della regione da parte del Comune rende possibili gli ampliamenti, scatta la corsa ai progetti. Adesso ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, altri due morti sulle strade, ciclista si schianta contro un tir ad Ancarano, un pedone invece investito a Campovalano. A centro pagina sulla fotonotizia, carissimo succhiotto Cassazione, sei anni di carcere, un teramano per violenza sessuale. Nel taglio alto l'iniziativa per i genitori, scuole sicure, la provincia apre le superiori. Di Spalla, Giulianova, i lavori alla De Amicis nell'inchiesta per corruzione. A Rosetto degli Abruzzi, Ciancaione lascia il lavoro per la politica e sotto la fotonotizia un solo interesse per la Team, aspettando il Tar si fa avanti la Cop Ciclat di Ravenna. E poi il terremoto, Ponti e Duomo, ecco le foto delle crepe raccolte dal drone dei Vigili del Fuoco. E poi troviamo il punto sul Teramo di Federico De Carolis, chiamiamolo Derby, è il titolo dell'articolo che ovviamente parla della prossima gara del Teramo a San Benedetto del Tronto contro la Samb. E dunque questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato al nazionale, andando a guardare i principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump modera la linea sulle riforme, il titolo di apertura. Stati Uniti, prima intervista dopo la vittoria, la transizione affidata al vice Pence, continuano le proteste e 200 gli arresti. Potrei non cancellare parti dell'Obamacare, dice Trump, e da Bruxelles arriva l'affondo di Juncker. Protagoniste poi, qualcosa è cambiato. Vedete l'incontro fra le due first lady, Michelle Obama e Melania Trump. E poi ovviamente la sconfitta Hillary Clinton, il titolo è tre donne nelle immagini del day after. Ovviamente il day after, il voto negli States. Poi troviamo un'intervista con Silvio Berlusconi, io il presidente americano e il mio no al referendum. Questo è il titolo dell'intervista. Ancora un editoriale di Angelo Panebianco, una lunga fedeltà se l'Europa perde l'alleato. Ovviamente la riflessione sulle dichiarazioni di Juncker. Nel taglio basso, una tassa per chi affitta casa con Airbnb, emendamento alla manovra dopo il successo della app, prelievo con una cedulare secca del 21%. La Repubblica, Europa Trump, alta tensione. Questo è il titolo di apertura ovviamente sulle elezioni americane. Juncker, con lui perdiamo tempo, è lontano da noi. Commercio fisco, Brexit, politica estera, tutte le divisioni. Il mio presidente Obama in Unione Europea non prenda impegni e si riavvicina ai poteri forti dell'economia americana. Dunque questa la lettura di Repubblica che poi scherza anche con i sondaggisti che hanno clamorosamente fallito nelle previsioni del voto americano. Un disastroso fiasco dei sondaggi, ogni paese ha i sondaggisti che si merita, scrive e ci fa vedere Al-Tan. E poi andiamo a Parigi. Il locale riapre a un anno dalla strage. La foto, lo vedete, del Bataclan, fra i sopravvissuti del Bataclan. Così stiamo cercando di sorridere. Andiamo sulla stampa adesso. La ricetta di Trump spaventa l'Unione Europea. Meno burocrazia e meno imposte sul lavoro nel programma economico. A guidare la transizione sarà Pence, mercati senza vincoli e più soldi alla difesa. Juncker attacca equilibri mondiali a rischio. Poi a centropagina, in questa fotonotizia, dall'America a Napoli, la carica degli esclusi parla Roberto Saviano. La crisi ha espulso dalla società e intere classi sociali sono tornate le caste. Questo spesso genera rabbia e violenza, dice Saviano. Poi di spalla, nella manovra, la tassa che regola Airbnb, abbiamo detto della cedola resecca del 21%. E poi i folli weekend dei forzati del referendum, ovviamente si tratta della campagna elettorale. Nel taglio alto, morto a 82 anni, Leonard Cohen, narratore rock di Emozioni, uno dei più grandi della storia della musica del Novecento. Il sole 24 ore, il principale quotidiano economico italiano, apre con la borsa. Tassi BTP oltre il 2%, sale lo spread, le attese di aumento dell'inflazione dei tassi della Federal Reserve. Dopo l'elezione di Trump spingono i bond a rialzo. Rendimenti ai massimi da luglio 2015. Il divario con il Bund, il titolo di Stato tedesco, supera quota 170. E poi cartelle, incluso anche il 2016, nel decreto legge fiscale, rottamazione a partire dal 2000, quasi 5.000 gli emendamenti alla legge di bilancio. All'esame, una cedolare secca sull'affitto di stanza online e Ape Social estesa. Andiamo nel taglio alto, la questione industriale. PMI Day, le aziende aprono le porte a 40.000 giovani. Il messaggero ora, Trump, l'Europa apre il fronte. Vedete, quasi tutti i quotidiani italiani tornano con riflessioni sulle elezioni negli Stati Uniti. Juncker attacca il presidente eletto. Non conosce il mondo, perderemo due anni, equilibri a rischio. Stop del tycoon ad Obama. No a nuove iniziative, ma potrei salvare qualcosa della riforma sanitaria. Il famoso Obama Care. E poi le interviste del messaggero, Roosevelt, abbiamo perso per colpa dei nostri errori. E poi Morris, come Brexit, la scelta degli Stati Uniti va rispettata. Troviamo anche un articolo di Marco Gervasoni, uso scorretto della parola populismo, le etichette sbagliate. Ovviamente molte volte nelle elezioni che ci sono state sia in Europa che adesso negli Stati Uniti si è parlato di populismo per classificare un po' le posizioni conservatrici di alcuni leader europei e in questo caso americani, ma come vedete Gervasoni riflette anche sull'uso della parola populismo. E a proposito di populismo, una delle etichette che vengono messe al Movimento 5 Stelle, il leader dei 5 Stelle, Grillo, dice che il direttorio non c'è più. La gaff di Grillo sui Musei Vaticani, Lombardo, Marra, nomina arrogante. E' comunque la notizia di giornate che Beppe Grillo ha posto uno stop al famoso direttorio del Movimento. Poi ritroviamo la notizia sulla stretta, sugli affitti vacanze, le multe, i bagarini online, gli emendamenti alla manovra economica. E' a centropagina imprenditori e pochi politici con Donald Squadra di Falchi. Questa nella fotonotizia vedete l'ingresso della Trump Tower presidiato da alcuni agenti in assetto antisommossa. Nel taglio basso il cantatore canadese è scomparso a 82 anni, addio a Cohen, poeta della musica, e poi filmini hard con la figlia abusata, padre pedofilo, arrestato ad Ostia. Andiamo sul tempo. Sanità senza ticket, bufala di Zingaretti, l'apertura è dedicata alla sanità della regione Lazio, annuncio roboante, poi la triste verità, dal 2017 saranno gratuite soltanto tre prestazioni. Intanto passa la delazione del meccanico, cambiando argomento, se non paghi il bollo, niente revisione dell'auto. Questo è uno degli emendamenti alla manovra economica, al documento di bilancio. Scudetto alla Lazio, esclusivo la relazione finale della commissione FIGC, il titolo del 1915 va assegnato ai bianco celesti. Insomma, si torna indietro di qualche anno. Libero effetto Trump sull'Italia, i partiti si spappolano. Totti e Salvini, fan del presidente americano, vanno in piazza a Firenze, Parisi con l'ok di Berlusconi. Da un'altra parte, anche il PD non sta bene, scissione dopo il referendum, dice il quotidiano diretto da Vittorio Felti. Solo Grillo può approfittarne, ma gli manca la gente giusta. Questo secondo Libero. Poi a centropagina, due fotonotizie con il presidente Boldrini e Juncker. A Boldrini e Juncker il premio Bamba del giorno. Andiamo sulla verità, quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Siamo sempre nel campo del centrodestra perché voterà no l'accusa del professore Di Renzi, riforma scritta sotto ricatto. Desiervo, le regioni a statuto speciale non sono state toccate perché altrimenti i loro rappresentanti non avrebbero fatto passare la legge Boschi in Senato. E' stato creato un mostro. Poi a centropagina, follie carcerarie, spendiamo 3 miliardi l'anno per fabbricare delinquenti. Ancora pericoloso comprare i titoli di Stato, i prezzi destinati a scendere ancora, mai tanta liquidità ferma in banca, aziende in affanno. Cambiamo decisamente schieramento, passiamo all'unità, quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico, la resistenza di New York e il titolo di apertura. Il Ku Klux Klan esulta, il sindaco De Blasio si ribella, non forniremo a Trump le liste dei migranti. E' già scontro con l'Europa. Juncker non sa nulla del mondo, la mappa dei potenti con Donald. Ovviamente il giudizio dell'unità su quanto è successo negli Stati Uniti è nettamente contrario al neopresidente. E poi Leonard Cohen, quando muore un poeta. Questo è il titolo sulla fotonotizia. Andiamo sul manifesto. La Casa Bianca, qualche giorno fa, prima dell'elezione, il manifesto titolò La Casa Sbianca. Gioca ancora su queste parole e sul nome della sede del presidente americano, con una foto anche un po' inquietante, dobbiamo dirlo, con i cappelli del Ku Klux Klan che non ha fatto mistero di appoggiare le posizioni di Donald Trump in America. Terza notte di proteste contro Trump, scontri e arresti a Portland e Los Angeles, la polizia spara sui cortei. Intanto il Ku Klux Klan rivendica l'elezione del tycoon alla Casa Bianca e annuncia la parata per la vittoria, come vi ho detto in precedenza. Poi, sempre sulle elezioni americane, l'intimazione del neoeletto non prenda nessuna iniziativa estera. Trump, avvertimento ad Obama. Il mattino di Napoli, Trump la gaffe di Juncker, è il titolo di apertura, con lui perdiamo due anni e il tycoon avvisa Obama, non prende iniziative, il presidente della Commissione europea va all'attacco del nuovo presidente degli Stati Uniti, non sa nulla del mondo. E poi una notizia di sport, calcio, proteste sul web dopo la debacle della nazionale, se l'Argentina contesta il ciccione Higuain. E poi il caso, violentata a 14 anni dall'istruttore di nuoto, questo è l'articolo di cronaca riportato dal mattino. La gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano pugliese, apre con la manovra fiscale, madri ricche, niente bonus, sale a tre giorni, congedo ai neopapà, bollo auto, evasori nel mirino, referendum, lettera di Renzi agli italiani all'estero, il no va all'attacco. Andiamo sul secolo XIX, il quotidiano ligure genovese, l'Unione europea mette nel mirino Trump, timore europei per i mercati senza vincoli negli Stati Uniti, non si fermano le proteste, Juncker dice non sa nulla del mondo, con lui al potere perderemo due anni di tempo. Andiamo ancora, anzi no, andiamo a vedere questo approfondimento su una notizia di cronaca giudiziaria, il processo P3 per Verdini chiesti quattro anni imbarazzo nel Partito Democratico. Andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del nord-est, schiaffa dell'Unione europea a Trump, non sa nulla, Stati Uniti, il mio presidente Stop Obama, basta iniziativa in politica estera, ancora scontri nelle piazze, è durissimo l'attacco del presidente della Commissione europea Juncker, non conosce il mondo dell'Europa, riferendosi a Trump ci farà perdere due anni. Questo per quanto riguarda i quotidiani nazionali, ma continuiamo con la pagina dedicata al nazionale, però apriamo i quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport titola in apertura Gol Italia Gol, qualificazioni mondiali a Vaduz alle 20.45 contro il Liechtenstein, la nazionale di Ventura lancia quattro attaccanti con l'obbligo di segnare tanto. Candreva, Belotti e Immobile, oltre a Bonaventura davanti, ci aspettiamo una valanga azzurra perché potrebbe essere decisiva la differenza reti. E poi che trionfo 3-0, Tite e Coutinho, il Brasile vola, crisi argentina che ora rischia. Nel taglio alto la Juventus all'arme di bala, lo stop si allunga di tre settimane, dopo piazza altro ritardo nei tempi di recupero, l'argentino salterà a Siviglia. Per l'Inter, Kondo e Gabigol, le sfide di Pioli per il rilancio. A Napoli, De Laurenti se sente preziosi, vuole Pavoletti per rinforzare l'attacco. Andiamo sul Corriere dello Sport, a caccia ai gol. Un'Italia d'attacco contro il Liechtenstein, segnare tanto può valere i mondiali. La partita si gioca alle 20.45 come abbiamo già visto, la differenza reti potrebbe decidere la qualificazione. La Spagna ha colpito otto volte, Ventura si affida davanti al tandem immobile Belotti. Nel taglio alto, Betancura la Juve la firma con il Boca. Nel weekend, l'incontro per definire l'affare, intanto si ferma di bala per altre tre settimane. Poi l'inchiesta, la SPAL italiana tra felicità e vittoria. Stadio pieno e tifosi in delirio, così semplici vive il sogno della A. Nel taglio basso, la mia Lazio giovane per vincere di nuovo, queste le parole di Simone Inzaghi. E poi le frecciate, il closing rinviato, Gagliani punge il Milan cinese. Ancora si tratta con il West Ham, Gabbiadini-Zazza, il Napoli-Ciprova e poi il grande rugby a Roma. Gli azzurri sfidano i maestri All Blacks. Su tutto sport, Milan-Inter, il derby delle spie. I DS Mirabelli-Ausilio hanno lavorato insieme in Nerazzurro, ora si sfidano per gli stessi obiettivi da Lindelof a Keita. E poi il Toro, gli Aici, il suo segreto, Asso anche nel basket. Poi la Juve, perché temere la Roma, l'analisi di Bacconi, i giallorossi tengono lo stesso ritmo e hanno tutto per continuare. Di Bala, rientro più lontano, avanti con Iguain-Manzu, chi c'è il 4-3-3. Nel taglio basso, l'Italia contro il Liechtenstein, Belotti-Mobile, missione goleade. Poi qualificazioni mondiali, Inghilterra, derby show, Francia, brividi e rimonta. Poi il contatto col Genova, Napoli, 18 milioni per Pavoletti e il rugby, oggi il test match a Roma, l'Ital Rugby milionaria all'esame degli All Blacks. E dunque adesso ci fermiamo con la rassegna per dare spazio al Meteo, con le previsioni di Luca Mennella per Meteo 6, poi un break pubblicitario. E ancora torniamo con la nostra rassegna stampa per approfondire le notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo dunque alle notizie dalla nostra regione, aprendo le pagine interne dei quotidiani regionali. Partiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero, dove si parla soprattutto di sanità, ospedali, piano copiato e pure male. Forza Italia accusa, ma Venturoni non aveva previsto regali ai privati. La programmazione della giunta Chiodi spacciata per novità da Febbo, critiche per i ritardi nell'uso dei fondi europei. E allora andiamo a vedere insieme il servizio sulla conferenza stampa di ieri, tenuta all'Aquila da Forza Italia. Il gruppo consigliare di Forza Italia interviene in conferenza stampa su fondi europei per l'agricoltura, Masterplan e nuovi ospedali abruzzesi. Per chiarire le posizioni in merito a questi temi abbiamo sentito il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, e il consigliere Mauro Febbo. I nuovi ospedali sono esclusivamente riferiti al lavoro di Lanfranco Venturoni, che saluta e ringrazio, e che tutti gli abruzzesi dovrebbero ringraziare per questo risultato, e della giunta Chiodi e del centro testa che governava allora. Vorremmo avere anche il nuovo ospedale di Giulianova, che però nella nuova programmazione della giunta d'Alfonso viene cancellato. Dov'è la differenza? Noi finanziavamo questi ospedali avendo recuperato, grazie al lavoro della giunta Chiodi, 228 milioni di finanziamenti statali, a cui sommavamo al privato che avrebbe costruito l'onere di decurtare il costo della permuta del vecchio immobile. Oggi la nuova giunta toglie le permute e mette soldi cash, ovvero canoni di concessioni oppure servizi ospedalieri, cioè pagano sempre gli abruzzesi. Sulla programmazione del 2014-2020, e quindi siamo ormai al terzo anno, purtroppo l'Abruzzo, e non lo dice Mauro Febbo, forse Italia, ma lo dice un quotidiano sicuramente indipendente, quale il sole 24 ore, risultiamo la terz'ultima, superiamo solamente il Molise e la Calabria. Su questo ci siamo confrontati, mercoledì scorso, in commissione di vigilanza, dove la dottoressa Gerardi, cioè il capo dipartimento regionale che ha la responsabilità, si è presentato con i propri dirigenti e purtroppo ha certificato questo stato di cose che mette a rischio 860 milioni di fonti certi europei. Più c'è la parte privata, quindi parliamo di oltre 2 miliardi di euro che sicuramente farebbero bene all'economia abruzzese. Noi siamo veramente allarmati di questo stato di cose, per cui sollecitiamo l'amministrazione a questo obiettivo, così come nutriamo ancora dubbi su come viene presentato il master plan, che sicuramente ha alcuni risvolti positivi, perché venire a fare quel tipo di investimenti per l'Abruzzo credo che sia importante, però enfatizzare e essere inerti credo che sia una cosa che non va bene. E proprio del master plan andiamo a parlare adesso. Quel che resta di Renzi, master plan ok, ma aspettiamo progetti e coperture. Imprenditori e sindaci, ottimismo e riserve dopo la visita del premier, ancora polemiche su scuole e rimozioni. Il day after, promosso a pieni voti per la firma del master plan, anche se resta qualche ombra sul comizio elettorale sulla blindatura della città di Pescara e il bilancio della visita di Renzi tracciato dagli imprenditori, dai sindaci e dai politici di opposizione. Adesso passiamo sul quotidiano e il centro, andiamo a vedere le pagine dedicate all'Abruzzo. L'Abruzzo dei poveri, città per città, viaggio nella disperazione, rabbia e sofferenza tra ruderi occupati e dormitori a cielo aperto. Vedete le fotografie abbastanza eloquenti. L'arcivescovo forte, il dovere dell'accoglienza riguarda tutti noi, così l'arcivescovo di Chieti. E poi l'intervista al Fano, in arrivo una legge contro il degrado urbano, parla il ministro dell'Interno. Sto lavorando ad un testo per mettere in sicurezza le città, ma il tema è soprattutto sociale, dice il ministro degli interni che sarà oggi a Pescara. Andiamo avanti sempre sul quotidiano il centro. L'intervista a Galbiati, porto l'Abruzzo in Cina e assumo 100 dipendenti. Il manager di Avezzano svela i piani del Foundry Smic, investimento da 100 milioni e aumento della produzione. Le reazioni del sindacato, parliani della Win, restano dei punti da chiarire sul futuro assetto. Siamo passati da 700 esuberi ad una prospettiva nuova che ci dà una spinta per andare avanti, senza ammortizzatori sociali, i lavoratori hanno più sicurezze. Andiamo avanti, soldi sbloccati, fondo Valle Sangro, partono i cantieri. La visita ieri di Del Rio in Abruzzo, prima la Sevel poi a Sulmona, ad Alfonso e Del Rio, completamento della strada dopo 40 anni. Allora, andiamo a vedere proprio la visita Del Rio nella fabbrica del Ducato, la Sevel di Atessa. Giornata abruzzese per il ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio, che questa mattina ha visitato lo stabilimento della Sevel, confermando il completamento della Fondo Valle Sangro e partecipando all'incontro con i vertici dell'azienda produttrice del Ducato, che ha visto quest'anno numeri da record in serata la visita a Sulmona. Anche qui, come da tante altre parti d'Italia, lo dico spesso, c'è la cosiddetta guerra dei 30 anni. Sono opere attese da più di 30 anni, declamate, richieste, promesse. In realtà nell'ultimo anno e mezzo, anche da quando c'è il governo Renzi, abbiamo cercato di mettere in fila le cose e quindi questa realtà infrastrutturale verrà potenziata. Nel nuovo anno andiamo sicuramente ad aggiudicare la gara per tutta questa Fondo Valle e grazie al lavoro puntualissimo che abbiamo fatto col Presidente della Regione credo che questa sarà una delle tante opere che da promessa diventa realtà. Ministro, l'agenda Abruzzo è tenuta in primo piano dal governo. Ieri è venuto a pescare il primo ministro, oggi lei qui alla Seve e la settimana prossima ci sarà il ministro Madia. Sì, è il segno di un'attenzione, credo che non ci sia mai stato. Abruzzo è un mezzogiorno ancora, ma ormai è fuori dalla crisi del mezzogiorno, è una regione dinamica. In questa regione del mezzogiorno, come in tutte le altre regioni, c'è una presenza costante del governo, in primis del Presidente del Consiglio, che è il Presidente che è stato di più nel mezzogiorno di tutti i suoi predecessori, che ha costruito di più insieme agli enti locali i patti territoriali. Quindi credo che questa sia una buona notizia per il mezzogiorno. E adesso ancora polemiche sulla visita di Renzi a Pescara. La Leopolda in Comune, il Movimento 5 Stelle, presenta un esposto. E' polemica dopo la visita del Premier a Pescara. La consigliera Marcozzi va dal prefetto, appesi al municipio Striscioni per il referendum, e violate le norme sulla propaganda. L'esponente Grillina dice troppe leggi non rispettate, presento la denuncia anche alla Gcom. Arriverà una multa come alla Serracchiani. Il Sindaco replica, con il Premier una giornata importante per la città e la regione, pensiamo ai lavori utili e non alle segnalazioni strumentali. Tra le polemiche anche quella di Fabrizio Di Stefano, di Forza Italia, Renzi quanta arroganza. Della visita di Matteo Renzi in Abruzzo, a mio avviso, rimane solo tanta amarezza per lo sfoggio di inutile arroganza. Quanto afferma il deputato Fabrizio Di Stefano, di Forza Italia. Andiamo ancora avanti con il quotidiano Il Centro. Apriamo la pagina di Pescara. Sanità, il progetto, il vecchio ospedale trasformato in centro per malati di tumore. Via Libera lo studio per realizzare un polo onco-ematologico, spesa da 19 milioni in 4 anni, archiviata l'ipotesi di riportare nel palazzo di Via Paolini il dipartimento materno infantile. Poi ancora, tre reparti sventrati e abbandonati da sei anni. Nel 2010, un'inchiesta con cinque arresti per tangenti fermò l'intervento in corso. Da allora metà palazzina è interdetta e il processo si è chiuso senza condanne. Nel taglio alto, la denuncia dei sindacati, allarme di CGL Will, pochi infermieri in servizio, emergenza a geriatria e medicina. Queste sono un po' le problematiche nell'asile di Pescara e all'ospedale di Pescara. Adesso siamo alla cronaca, restando sempre al capologo adriatico. L'ascensore era il nascondiglio delle armi. Due pistole, un fucile, 23 cartucce scoperti in un palazzo del ferro di cavallo. L'ipotesi dei carabinieri che queste armi fossero utilizzate per effettuare delle rapine. Allora andiamo a vedere questa operazione dei carabinieri di Pescara. Un vero e proprio arsenale nascosto all'interno del vano ascensore di una palazzina del ferro di cavallo in via Tavo a Pescara. Lo hanno trovato i carabinieri nel corso di un blitz nel quartiere Rancitelli che ha permesso di recuperare una pistola scacciacani con matricola brasa modificata in modo da poter sparare. Una pistola calibro 8 senza matricola e una doppietta calibro 12 con matricola solo parzialmente leggibile. Assieme alle armi c'erano anche 23 cartucce calibro 16 inesplose. L'ispezione è stata fatta in particolare al civico 177 dove i militari hanno iniziato ad ispezionare l'androne delle scale, le scale stesse, il sottotetto, fino ad arrivare a ispezionare il vano ascensore dove in passato già abbiamo trovato anche quantità di stupefacenti occultate. Per l'altro è come frequenza e come frequentazione dei noti soggetti che purtroppo conosciamo da tempo, questo è uno dei palazzi più tranquilli, uno dei civici più tranquilli e più puliti, ragion per cui forse è stato proprio scelto opportunamente per nascondere queste armi perché dava sicuramente meno nell'occhio. Ora tutte le armi saranno consegnate al RIS di Roma alla ricerca di eventuali impronte digitali o di materiale organico da sottoporre a test del DNA e per gli accertamenti balistici. Per ora pistole e fucile non hanno un proprietario, anche se sono perfettamente manutenute, sintomo che quel nascondiglio dell'ascensore fosse frequentato in maniera assidua dalla malavita del quartiere. Siamo molto fiduciosi sugli accertamenti che effettua il RIS, sia dal punto di vista balistico per vedere se queste armi hanno già sparato in passato, sia dal punto di vista biologico per vedere se verranno rinvenute tracce di DNA, quindi saliva, manipolazioni varie e soprattutto i ridevi dattiloscopici per vedere se verranno fuori delle impronte digitali censite. Depuratore Corsa, dell'ACA per trovare un altro gestore, il contratto con l'impresa di Vincenzo scari a fine anno ma la gara in ritardo. Il presidente dell'azienda acquedottistica Luca Toro dice l'impianto non si fermerà. E poi il Movimento 5 Stelle che presenta una proposta di delibera per combattere il fenomeno della ludopatia del gioco d'azzardo. Stiamo sempre alle croniche di Pescara. Caso Pitbull botte agli inviati di Striscia, animaliste e operatori aggrediti a Montesilvano mentre registrano la denuncia sui cani da combattimento in strada. Bellini li prendono per moda, poi li abbandonano. Cani di razza aggressiva sono sempre richiesti, tenerli con sé è una moda, osserva Carmelita Bellini responsabile del Dog Village di Montesilvano. L'emergenza senza tetto, nuovo piano sociale, incontri con i cittadini, si terrà martedì 15 novembre dalle 9 alle 13 nella sala consigliare di Palazzo di Città, il primo forum cittadino sulla formazione del nuovo piano sociale. Circonvallazione da lunedì, via ai lavori nelle gallerie, lavori notturni di tinteggiatura delle pareti interne, delle gallerie sulla circonvallazione e qui trovate tutto il calendario delle chiusure. Poi i robot intelligenti che trovano le bombe e tagliano le bollette, le novità in mostra al villaggio della comunicazione all'Aurum. Andiamo avanti rapidamente. Film sul volto santo, ciacca a manopello. Da oggi le riprese sulla storia secolare del Sacro Velo. i cittadini comparse, tra i protagonisti i frati del santuario. Poi i sequestrati 17 esemplari di tonno erano destinati a Roma e i responsabili in fuga dopo il blitz della guardia costiera. Andiamo ancora avanti con le notizie da Pescara e ci spostiamo però sul messaggero. Cemento in spiaggia, una norma aiuta gli stabilimenti. Per il comune si applica il piano demaniale marittimo della regione. via libera all'espansione delle superfici. Vista mare addio, dopo aver demolito le porzioni abusive della concessione, De Cecco, ad esempio, potrebbe accrescere gli spazi con un altro progetto. Poi il piano sociale allegrino accelera una rete di associazioni privati. Torniamo invece adesso sul centro. Andiamo nell'area metropolitana. Rifiuti differenziati. La raccolta del 2016 premia i cittadini. A Francavilla quest'anno ha raggiunto quasi il 60% di raccolta differenziata. I residenti possono godere i disconti da utilizzare nei negozi. Poi ci sono le misure contro i furbi. Fototrappola e vigili in borghese per controllare il conferimento dei rifiuti. La pagina di Montesilvano. Il furto sacrilego. Ritrovato il bottino rubato in chiesa. Sparite le reliquie. Una denuncia per ricettazione. Recuperati gli oggetti sacri. Non c'è traccia dei reperti organici di San Giovanni Bosco. Città Sant'Angelo. Riciclaggio dei rifiuti. Itali scontata del 20% per 314 cittadini. Con l'eco card. Nel taglio basso. Una scuola per il prete del sorriso. Folla commossa all'intitolazione del plesso di via Adige a Don Bruno Cicconetti. La pagina di penne popole dell'Alta Val Pescara. Lavori in chiese e palazzi. 3 milioni per i comuni. Sono in arrivo fondi del masterplan per popoli Castiglione a Casauria. E dall'anno partono le ristrutturazioni di edifici di grande pregio artistico ed architettonico. A Bussi il comune è costretto a risarcire due dirigenti. E poi il convento sarà una scuola di artigianato. Colle Corvino arrivano dalla regione 600 mila euro per il recupero del complesso di San Patrignano. Adesso ci spostiamo sul messaggero nuovamente. Andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila. La chiesa di San Marco rischia di corollare. Intervento di somma urgenza. La situazione si aggrava dopo le lesioni dell'ultimo sisma accumulate a quello del 2009. Ringraziamento a Don Pinton che ha permesso ai tecnici di effettuare le verifiche per salvare i reperti. Da martedì partono i puntellamenti anche per l'abside di Santa Giusta. Ci sono macerie che andranno catalogate e trasferite in attesa della messa in sicurezza. Poi c'è la polemica. I docenti del Da Vinci hanno scritto al Del Rio sul piede di guerra. I docenti dell'Istituto Da Vinci Collecchin a seguito dell'ordinanza di inagibilità del plesso di Pineta Signorini che ha provocato gravi disagi al funzionamento dell'Istituto. In occasione della visita del ministro Graziano Del Rio, la preside dell'Istituto, i docenti e un gruppo di studenti hanno consegnato una lettera al ministro per rappresentargli la drammatica situazione. Nel taglio basso, Biasini, Indrangheta, non centro. I legali dell'imprenditore aquilano hanno chiarito niente intercettazioni. Mancano le prove per questo procedimento penale. L'Aquila Del Rio garantisce i 6 miliardi, ci sono compresi gli incentivi. I fondi stanziati per l'Aquila sono nella legge di stabilità. Si potrà fare tutto. Qui c'è un'esperienza di successo. La pezzo pane eccellente rilancia il progetto di prevenzione del fabbricato. Questo per la parte aquilana della visita del Rio ieri. Tribunale. Carenza di magistrati nel civile. L'incontro con il sottosegretario Federica Chiavaroli. Enorme arretrato sui ricorsi dei richiedenti asilo. Nel taglio basso l'ex sindaco Biagio Tempesta torna in pista con Forza Italia. Il coordinamento per il referendum lo ha indicato per il no. Sarà affiancato da Carlotta Ludovici, Simona Badia e Roberto Silveri. Scalde i motori per le comunali. La pagina di Avezzano sul Mona. Musulmano in aula salta l'ora di religione. La maestra e i bambini fate i disegni. La presenza di una di voi di fede non cattolica mi obbliga ad evitare l'insegnamento. La vicenda alle elementari Lombardo Radice di Sul Mona. Gli alunni raccontano la situazione va avanti ormai da mesi. La dirigente invece ridimensiona. È accaduto solo poche volte. La cifescovo Spina dice penso ad un disguido. Nel taglio basso furte e scippi. Tre persone finiscono agli arresti nella Marsica. E poi treni fermata soppressa la rabbia del sindaco di Celano. Andiamo alla pagina di Chieti adesso. Operata di tumore ai polmoni. Le lasciano un tubo nel torace. Il presunto errore dei medici rende un inferno la vita di un'anziana di 75 anni. L'intervento al Santissima Annunziata ora la donna chiede un risarcimento. La paziente è costretta a finire nuovamente sotto i ferri per rimuovere il corpo estraneo di 15 centimetri. E poi la scomparsa del fotografo. Il caso è chiuso e resta il mistero sulla scomparsa di Valerio De Torre. La biblioteca del teatro viene riaperta a pubblico per quanto riguarda il Maruccino. La biblioteca riapre al pubblico a 20 anni dalla scomparsa di Mario Zuccarini. Nel taglio basso arriva l'inverno. Comune piano neve da 47 mila euro. Affidato il servizio a una ditta di San Buceto. A disposizione ci sono sei mezzi. La pagina di Lancianova Stortona. Strada e porti le promesse del ministro. Abbiamo già visto in precedenza questa notizia approfondita anche con un servizio. Adesso passiamo alle pagine del Terramano. Ma andiamo sul quotidiano La Città. Psicosi, scuole sicure. Open day per rassicurare i genitori sulle sede scolastiche. Comuni e provincia mettono in rete le valutazioni della protezione civile. Ma l'agibilità non significa sicurezza. Trasparenza. Comune e provincia hanno messo su internet nei rispettivi siti le schede di valutazione delle scuole firmate dai tecnici della protezione civile su agibilità e lavori eseguiti. I danni del terremoto. Terramo sarà come Ascoli garantita la ricostruzione. Slitta ancora la pubblicazione degli allegati tecnici per la definizione dei comuni compresi nel nuovo cratere. Isola del Gran Sasso. Sindaco e PD locale scioccati per l'eventuale esclusione dal cratere chiamano in causa il governatore D'Alfonso. Terramo, un succhiotto, gli costa sei anni di carcere. Un terramano è stato condannato in cassazione per violenza sessuale nei confronti dell'amante che lo aveva lasciato. E poi Economia, Terramo e L'Aquila, avviata la fusione delle due camere di commercio. Andiamo adesso alla cronaca. Campovalano, travolto ucciso attraversando la strada, l'operaio alla guida di una multipla, disturbato dalla pioggia. Un solo interesse per la Team, aspettando i tre ricorsi al TAR si è fatto avanti il gruppo di cooperative Ciclat di Ravenna. Ancora le cronache dal Terramano. La nuova sede dell'IZS è pronta a diventare realtà. I 30 milioni che arriveranno con il masterplan serviranno per completare il polo di colle atterrato. Andiamo ancora alla cronaca. Ciclista muore contro un camion. Il 57enne di Escoli Piceno perde il controllo della bici lungo la bonifica del Tronto. la ricostruzione. Il ciclista avrebbe urtato un furgoncino che vianciava davanti a lui e poi sarebbe finito contro il camion. Andiamo a vedere qualche altra notizia dalla provincia. Lavori alla De Amicis. Nell'inchiesta per corruzione che riguarda il comune di Giulianova gli inquirenti spulciano tra gare ed affidamenti del comune sotto la lente anche l'appalto per le elementari. Il sindaco Mastromauro si è preso due giorni di tempo per valutare eventuali provvedimenti. Adesso passiamo allo sport. Torniamo sul quotidiano Il Centro per aprire la pagina dell'Abruzzo Sport. Con la serie A ferma, non si ferma comunque il calcio. Pescara, Piniglia e Pektovic le prime idee per l'attacco si pensa al mercato in questa sosta per le partite della Nazionale. La società valuta anche le posizioni di Melchiorri, Paloschi, Giannetti e Diuric. La dirigenza lavora per colmare le carenze lasciate in eredità dalla campagna acquisti estiva. Per la difesa potrebbe tornare d'attualità il nome di Andreolli dell'Inter e il Toro può liberare Bovo. Verre spera. Il francese Baiebeck salterà la sfida dello Juventus Stadium. Nulla da fare per l'attaccante. Qualche speranze invece per Valerio Verre. Per la prossima partita di sabato 19 novembre alle 20.45 contro la Juventus a Torino. Il Pescara sarà di nuovo primo dell'attaccante francese. Diverso il discorso per Verre. Guaio al Metatarso che potrebbe essere convocato per la sfida dello Stadium. Nel taglio basso Crescensi. Dobbiamo essere più cattivi. Il terzino. Nulla è perso. Non si molla. Fiorillo punge Skorupski. Le sue scuse. Parole di circostanza per quanto accaduto nella partita contro l'Empoli. E poi sorpresa in centro. Conte a Pescara. Fine settimana di relax con gli amici. La Premier è ferma per gli impegni delle nazionali. Il tecnico del Chelsea in città. Ospite di Roberto D'Aversa. Ex allenatore del Lanciano. Andiamo in Lega Pro. Domani in campo. Nofri. Teramo serve carattere. Il tecnico a San Benedetto del Tronto. Occorre un segnale di sostanza. Lo dobbiamo al club e ai tifosi. Andiamo a sentire proprio il tecnico del diavolo Nofri. Abbiamo lavorato con grande intensità. Come abbiamo sempre fatto questo. E' stata una settimana lunga perché quando rinizi dal giorno dopo è chiaro che i giochi la domenica come giochiamo questa volta è una settimana lunga ma fa parte del mestiere e fa parte del contesto che dobbiamo migliorare. Andiamo a giocare su un campo, su un ambiente particolare per la Lega Pro perché lo stadio San Benedetto lo conosciamo, quindi lì c'è grande affluenza di pubblico, c'è grande partecipazione e credo che i grandi meriti anche dei risultati ottenuti da San Benedetto se possono derivare da quell'ambiente dove c'è grande spinta, c'è grande coinvolgimento. Poi il tutto deve darci grandi motivazioni. È un derby importante per la classifica, per la nostra tifoseria che ci tiene in modo particolare, quindi anche nella difficoltà vedo che i nostri tifosi stanno preparando con grande partecipazione nella trasferta, quindi lo dobbiamo sicuramente a loro e alla nostra società che in questo momento è un derby che ci deve dare grandi stimoli perché l'ambiente è sull'aspetta, i giocatori lo sanno, dunque dobbiamo fare una gara importante sotto tutti i punti di vista e da lì dobbiamo cercare di cogliere il massimo del risultato. E' un attaccante, fa parte di quel reparto, in questo momento siamo con qualche carenza perché Jefferson non ce l'abbiamo, Croce ha un piccolo problema che credo che dobbiamo risolvere, perché possiamo risolvere, quindi lui è il ragazzo aggregato come quarto attaccante e può essere un'alternativa, sicuramente. Dobbiamo essere concentrati, dobbiamo cercare di tornare da San Benito con punti e soprattutto dare un segnale di sostanza, perché lì secondo me c'è bisogno di fare una partita di sostanza su quel campo, anche vedendo le precedenti gare che loro hanno giocato. Noi dobbiamo cercare di mettere in campo quel qualcosa in più, è chiaro che dobbiamo fare molto di più rispetto a domenica scorsa col Mantua. Adesso la Serie D, gli abruzzesi dei gironi F e G, Pepe e L'Aquila prendiamoci la vetta, domani il big match ad Albano Laziale per il derby con l'Avezzano, aperto il settore ospiti e ampliata la capienza. Poi andiamo a vedere il calcio di Serie A per quanto riguarda il calcio a 5, l'Acqua e Sapone si inchina alla capolista Napoli, i nerazzurri di Fuentes si fanno raggiungere e superare nel finale, domani in campo il Pescara, Acqua e Sapone sconfitta 7-6. Andiamo al basket di Serie A2, Sharks e Furie in chiaroscuro, Roseto i tifosi preparano il grande esodo, domani ad Ancona contro Recanati potrebbero essere in 700, Proger, Mortellaro con Imola non si può sbagliare. E poi scendiamo nel taglio basso, il Pineto prova a rialzarsi per quanto riguarda il Vole e gli impegni nel weekend in A2, B1 e B2, Montorio altro rinvio per il sisma, Orsogna lanciatissima. La palla a mano tornano A e A2 dopo la sosta, Bruzzesi in cerca di conferme, Città Sant'Angelo vuole la seconda vittoria di file in casa. E poi ancora sulla pagina dello sport, cambiando disciplina, 6 categorie in lizza, domani a Chieti il Gran Premio d'Abruzzo di Ciclo Cross. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 termina qui, tornerà lunedì alle ore 7. La nostra informazione invece oggi è le 14 alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie per averci seguito, io vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie per averci seguito, Grazie per averci seguito,